osate affermare il vostro stile fate la vostra rivoluzione creando uno stile glamour con elegance elegance una pittura dal tocco vellutato costellata di paiat fini la sua textura ricca e cremosa si applica facilmente alle vostre pareti e alle vostre boseri di legno pronti per la vostra rivoluzione creativa per questo vi occorre il primer prima pittura per favorire l'adesione elegance nel colore da voi scelto un rullo uno spalter siete pronti a voi muri applicate all'inizio una mano di primer con l'aiuto di un rullo approfittate delle quattro ore di asciugatura per rilassarvi in seguito mescolate bene la pittura applicate una mano leggera di elegance con l'aiuto di uno spalter realizzando movimenti incrociati lavorate per piccoli superfici da 2 a 3 metri quadri l'asciugatura dura circa 4 ore applicate una seconda mano leggera di elegance nello stesso modo senza attendere l'asciugatura pulite lo spalter su uno straccio e lisciate con movimenti incrociati per evitare l'effetto cordato è perfetto lasciate asciugare per quattro ore prima di passare alla decorazione per un po più di audacia associate un secondo colore a contrasto potete essere fieri questo stile unico è il vostro partecipate alla rivoluzione creativa ci vediamo su idpari.com per condividere le vostre realizzazioni e ritrovare tutti i nostri video e i nostri consigli pratici